Estra è Europe's 100 Digital Champions. A premiare la Multitivity, il Financial Times, la prestigiosa testata internazionale, ha inserito Estra tra le prime 100 imprese europee per l'innovazione digitale. Estra seleziona 20 candidati per il corso europeo di formazione del Project Manager del Report di Sostenibilità, finanziato da Erasmus Plus 2014-2020. Le candidature per la missione aperte fino al 28 febbraio 2019. Le telecamere per controllare traffico e territorio e la videosorveglianza finanziata dalla regione toscana installata da Estracom a Lucignano per aumentare la sicurezza del borgo della Val di Chiana. Estra con il Natale di Arezzo 2018 che fino al 6 gennaio riempirà con i classici mercatini Piazza Grande e con la ruota panoramica il Christmas Village allestito al Prato, l'area verde che domina la città.